ok quindi benvenuti ragazzi io sono al gisus dalla distanza perché abbiamo messo la webcam in un posto diverso qua c'è simorg e tanto per cambiare c'è un'altra persona oggi qua di zello molto importante ciao ragazzi molto zello pienissima di zello e oggi siamo su showdown sempre con in style che saluto molto calorosamente manca riccardo giusto esatto oggi purtroppo ragazzi siamo in tre oggi si prenderemo la rivincita ragazzi dalla precedente sfida su pokémon showdown si spera infatti dobbiamo riscattarci dobbiamo assolutamente riscattarci ragazzi se vi siete persi il video della randomizer di ieri sul canale degli in style abbiamo fatto sul diamante ma non vi diciamo assolutamente i pokémon tanto voi li vedrete ma andate a vedervelo perché c'è l'ignoranza è fatta a video un'altra volta con me l'ignoranza è fatta tutto parte 2 anzi parte 3 perché è già la terza diciamo collaborazione vedere le reaction alle botte di culo è sempre un gran piacere l'aneddoto interessante è che stiamo registrando proprio questa battaglia ignorante il giorno dopo della finale dei mondiali si è vero cioè ieri ne abbiamo visto veramente di giocate spettacolare ma adesso si sorbiranno bidoff su bidoff ok direi di cominciare bene direi di iniziare challenge challenge pluta primo vado eccoci qua eccoci qua potete ammirare le nostre spettacolari squadre mamma mia signori una bella disparità esatto la nostra è zelda barra sold art online reference e anche un po pokémon abbiamo messo un sacco di reference siamo culturati infatti partiremo con lunatica quindi direi di scegliere come lead questo e quest'altro perché così non si è esatto abbiamo messo questo e quest'altro ok attenzione ecco è esattamente quello è quello che ti spero è subito così subito così subito così beh vabbè c'è qualcosa da fare cosa da fare facciamo questo oddio oddio ti ho detto cosa devi fare no mio dio i soprannomi andati in questa fai gianni moragni distruggili con le sue canzoni gianni moragni per me cadrà dal palco ok proviamo ragazzi via quello avrei giocato ok fake out quanto ha fatto con fake out ha fatto parecchio molto eh c'è poco da fare c'è poco da fare c'è poco da fare no 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 dici questo anche sì 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 non c'è da pensare no assolutamente direi di no ok a parte che va benissimo su switch è morto ah beh sì 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 basta ok 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 siamo calmi ok va bene aia proprio quello che cazzo non si fa sentire ma mi è andato a prendere latte proprio cazzo non si fa sentire più che altro dovrà andare a segnare la mossa che avevamo fatto prima con lui ok dobbiamo giocare lui adesso però c'è l'unico scatto in attività eh perché non possiamo mettere dentro lui è vero lui non si può non lo facciamo in attività bene allora dai quattro sono quattro perché la mega sicuramente la mega più che cosa è vero è per forza in attività no non mi stanno pensando se l'accia holy moh quanto sai lui ah eh hieriです questa però la tira giù perché mi sei abilitante no ora farei questa e ho paura che abbia una cosa che ci faccio a sono lui no aspetta ci siamo e lei imploso, eccoci qua stavo a modi stavo a modi però stavo devo mettere perchè lui è ancora invita a venire per preservare si direi di si no no quidge ingulpi helping end questo fa male questo fa male nooo e dai quel kelminde non mi piace mo volevamo aspettare ancora 3 o 1 c'è le persone va bene aspetta farei diciamo più due no ok devo fare no è esatto vai sono lui vai tu poi intanto faccelo qui non lo so come da ma si ma fai no aspetta allora se va a questo se va a questo ma quello che abbiamo ma quello che va sul lato vai è una massa no aspetta perchè dato che potrebbe avere foloni per una massadaria ci siamo giocati male perché potrebbe avere foloni si che avevamo il di vai vai eh era difficile da contrastare no no anche perchè il fake out no no è vero ci andava a segnare la vostra prima era l'ultimo ok vediamo eccolo ok 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 spero lega shadow ball lo becca perfetto sai uuuuuh psica miscina guarda tu è è bacon ok assolutamente sì 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 assolutamente sì non è fatica cosa non è abbastanza basso non è abbastanza basso non ha non ha glattoli esatto a meno che non vuole ancora no no terremoto no ma dici che lo fa si vede infatti doppia protocoll quella doppia protocoll adesso finisce esatto 3seglie è abbastanza eh sì secondo me è più veloce di se non fa se non fa tipo guarda che che feria ha fatto l'ultra massa prioritaria finora esatto è esatto se non fa massa prioritaria stai mamma mia ca miseria l'assalto ovest sì qua con l'assalto ovest l'assalto ovest l'assalto ovest ha fatto il suo è andata anche l'aila è andato giù esci lui sì uno e no ti capisco sfoderare tenila come arma ok sarà dura ragazzi mi ha spessuto per bulbi mi ha spessuto per bulbi perché non mi fa oh mio dio eh allora tu sei più lento sì sì perché no perché no hai ragione non vedo io avrei fatto direttamente l'altro mosso perché non è caso se non mi fa il più problematico nel dubbio don mattino don mattino ok nel dubbio anzi lui che mostrimento ha sì nel dubbio signori scegliete pluda esatto pluda for president pluda for president oh mannaggia a lui favore bell'occhio giuriamo il ballo la nostra arma segreta eh signori eh eh il nostro arma segreta eh no beh adesso eh no perché sì adesso possiamo dai voglio dimettere lo mettiamo la via starly ok ok no no visto il livello hanno già capito eh sì ehi ma ma ehi eh livello 1 allora sai cosa fanno bene sì io ne approfitto prima eh vai vai sì beh su cos'è che lo fai quale è quello che preoccupa di più quindi lo la signora ma no te banni di come l'hanno scritto no 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 direi su di lui perché dietro abbiamo uno già con quello sì è vero ok ma ancora fluida io proverai con quello su mh ma salto verso il rifirio via mamma mia qual è stata cioè è stato il top eh ma quel punto di rifirio speciale un po' di cento no la soltura quant'eravano messi aspettarselo di punti indifesati giro stanti scaldo ma sai ok no 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 pensava ok allora vai di no no eh sì per forza è un po' di cento di doppio fuoco si ok così si 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 no no sinistra si In ogni caso ha un'altra inca Si Due turni Ti è peccato per il burro E voi Eravamo già pronti No sai che No sai che andrà No ma dai No Va bene Va bene va bene calma Calma Gabbiamo fatto il 57 57 con fei cari Eccolo che ritorna Allora eh Eh ma che palla Eh 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 si non si può cosa da fare No eh no Scusa eh Aspetta se ne entrambi normali Ah è vero Fatta metti lui Eh su che no No Eh ma cazzo Eh è vero Trova gustarle lo stesso No guarda Vai 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 Cioè secondo me Non è che non giochiamo di inverso Cioè Mi facciamo fare la commercio Eh infatti non puoi L'auto to replace Ascoltami Sì Guardalo guardalo come va lui Non puoi farlo Sì Vuoi fare Gianni Morandi Ci due mani che sono così Ok Ti applausi Ti applausi Ti applausi C'è abbastanza c'è da fare Gigi Gigi Eh Fai la parola Vabbè mi sa Anche tu Non non serve Fai la prima mossa anche tu Oddio Vai va Il Giordano No Vabbè non potevo Finisce male questa partita Eh Farsi tecnica finita male No la considerazione da fare è che il nostro team era Molto avvantaggiato Di best Eh sì Assolutamente Quello sì A parte quello è che il dubbio c'era venuto di provare una trick room o qualcosa che potesse sfruttarla Però abbiamo optato per Per quello che non siamo neanche a fare Ebbè noi Noi con Ariyama Tra i figli Eh era una bella trick room Abbiamo visto Cresseli per Trick room Sì Non c'è stato da pensare Che è quello che ho pensato io Addio la verità Eh infatti ci aspettavamo una contro trick room Tra l'altro Avevamo una chicca che però è morta subito Eh esatto Gulping che aveva Destiny, Bond e Z Ah No È morto subito È morto subito Ragazzi io concluderei così 2 a 0 secco Fantastico No È tutto È tutto a merito del film del culo Non preoccupatevi Dove essere quello che siamo stati più fortunati in entrambi i casi probabilmente Perché Cresseli ha qua fatto la differenza Dei Pirion, Ariyama Probabilmente hanno fatto la differenza Eh sì Ma più che altro c'era Porygon Z con conversione Z Eh infatti Aveva un po' Eh Aveva un po' Mossa Mossa Spettro la prima E quindi poi gli addava Questo Magmar Questo Giordano Bruno Magmar Aveva anche Clearz Mods Perché avevamo paurissima di Conversions Ah Sì 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 Ecco sarebbe interessante fare una lotta Noi facciamo un'altra randomizer E non ci diciamo i team Esatto Eh a quel punto sì Così non sappiamo chi è Esatto Non sappiamo come cancellare La lancio ai miei iscritti come idea E vi dico ragazzi Se volete una lotta leale della serie che noi non potete Ci siamo detti team Dato che avete vinto troppo Esatto Esatto Vediamo un attimo di sfida Ne avete asfaltato su Showdown l'ultima volta Eh beh L'altra volta quando abbiamo fatto random battle E' andata meglio noi Sì Quando abbiamo fatto random sì Quindi lancio questa idea a noi Fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate Se volete un'altra randomizer O un'altra cosa di questo tipo Dove noi non conosciamo i team Però ci facciamo il competitivo Oppure proprio il competitivo Ma lì le spiegherei Oppure il competitivo serio Eh sì Io direi direttamente di far scegliere Magari ai nostri o ai suoi iscritti Direttamente il formato da Esatto esatto Ah il format Esatto Anche la generazione magari Sì esatto Magari anche se non sarà un VGC Magari un partitale ingiusto Un rally ingiusto Sì 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 Beh Beh se volete avevamo un formato di cui vi parliamo dopo Però è questo dopo Ok Ragazzi io vi saluto Lascio i saluti a New Style Lei vuole aggiungere qualcosa? Che culo Che culo No dai Che culo Ci avete messo anche il vostro L'avete guidato bene Sì sì Complimenti Noi ringraziamo voi per queste opportunità che ci date Di fare questo tipo di collaborazioni Queste randomizer e showdown competitivo Quindi Speriamo che Speriamo che agli iscritti del canale appunto di Ultimate Gamer Sia piaciuto tutto ciò Anche ai nostri iscritti magari Sì beh assolutamente Dato che erano video frammentati Metà sul nostro canale Metà sul canale di Algisius E quindi Vabbè vi ricordo Vi ricordo io Fate un giro assolutamente per il canale di Nstyle Che dove Abbiamo fatto la prima Randomizer Scusate La prima battaglia su showdown Mentre sul mio C'è la prima randomizer Se ve la siete persi Se ve la siete persi Persa E vi raccomando Iscrivetevi Sia al loro canale Sia al mio Visto che siete da me Se fate uno sforzo di cliccare il bottone Allora è più complicato Capisco Perché bisogna andare a giocare a Nstyle Eh Infatti Oppure andare sulla descrizione Comunque però da me Se avete iscritti Sì che di solito nessuno legge la descrizione E allora nel commento finale vi lascio Nella schermata finale di Youtube Ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video Quindi se vi dicevi lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi E l'ho già detto però Chi se ne frega Noi ci vediamo in un prossimo video Magari su showdown con gli Nstyle Ciao Ciao